Musica Polla Michele Palma di appena 20 anni laureato in economia informatica a Pescara Gli esami previsti in due anni superati in un solo anno Monte San Giacomo, cavalla uccisa a colpi d'arma da fuoco, si indaga senza escludere nessuna pista Sanità in campagna, Alberico Gambino, ultimi tra gli ultimi, necessario spendere meglio le risorse a disposizione Debutto alla Camera dei Deputati per il docufilm Quel che resta dedicato ad Angelo Vassallo Musica, il cantante salernitano Simone vince il premio della giuria popolare al Festival Pro Scenium Bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale Riesce a superare 16 esami in un solo anno accademico, sia gli esami previsti in due anni Michele Palma, il giovanissimo studente di Polla che ha frequentato l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio Ad appena 20 anni sta già seguendo i corsi alla Bocconi di Milano per la laurea magistrale E sogna di diventare docente Michele Di Polla, raggiunto da noi in videocolla, ci racconta il suo percorso di studio E cosa lo ha motivato nella cavalcata Un ragazzo di giovanissima età che ha tanto da raccontare ma anche tanti consigli da elargire Ascoltiamolo Michele, la Commissione ha approvato il suo esame di valore Sorprendentemente con 102 su 110 E inoltre, sul proposto del Presidente, la Commissione ha deciso di assegnare la laurea Ok Beh, come dire, certamente una gratificazione per me Ma soprattutto credo che questo avvenimento, questo traguardo raggiunto Deba essere, come più volte ho detto, motivo d'orgoglio per il mio territorio, il mio territorio natio Per il territorio pescarese che mi ha ospitato in questa avventura E se vogliamo, io ritrovo, possa essere motivo di orgoglio, ritengo possa essere motivo di orgoglio anche per il territorio nazionale In particolar modo vorrei dedicare questo traguardo a coloro che attualmente si trovano ad affrontare gli studi universitari Che sono un percorso impegnativo e arduo di per sé e che possano ritrovare in qualche modo in quella che è stata la mia avventura Una motivazione ulteriore per portare a termine i propri studi e anzi, come dire, trarre ispirazione e spingersi al meglio delle proprie potenzialità Io vorrei sintetizzare tutto questo percorso con una parola, la passione Cioè quello che mi ha motivato a fare tutto questo è stata la passione per le discipline che stavo studiando in quel momento E che poi hanno costruito il mio background e mi hanno portato anche ad essere oggi qui dove sono Nel momento in cui ho deciso di intraprendere questo arduo percorso dell'anticipo di un anno Ho dovuto fare delle denunce, ho dovuto sottopormi anch'io a delle restrizioni Quindi diciamo, come raccontavo, ho dovuto limitare quanto più le uscite con gli amici Ho dovuto limitare i ritorni al mio paese natio e anche gli incontri con la famiglia Quindi la ragazza, la mia ragazza che mi ha sostenuto in questo E voglio dire, così come gli amici, sono due punti di riferimento, due punti fermi nella mia vita Che hanno dato ulteriormente motivazione, spinta, sprono a questo percorso Quindi sostanzialmente è certamente un percorso fatto di rinunce Ed è poi valsa la pena, visto i risultati raggiunti Ma, come dire, ribadisco il concetto che per quanto certamente le rinunce siano state oggettive E il peso di doversi porre in costante situazioni di studio Non è stato avvertito perché c'era la passione E anche l'auspicio che rivolgo a tutti Quello di trovare un percorso che sia per ognuno formativo certamente Ma soprattutto che istighi e susciti la passione in quello che si fa Inquietante episodio nelle montagne di Monte San Giacomo Qualche giorno fa è stato rinvenuto un cavallo morto Ucciso a colpi d'arma da fuoco La vicenda è seria Il paese purtroppo non è nuovo a questo genere di episodi Qualche anno fa morirono avvelenati dei bovini Ma vediamo i dettagli nel servizio Inquietante episodio nelle montagne di Monte San Giacomo Qualche giorno fa è stato rinvenuto un cavallo morto È stato ucciso da ignoti a colpi d'arma da fuoco E non si trova un poledro L'animale ucciso, provvisto di microchip elettronico E l'altro equino disperso appartengono ad un allevatore È stato lui stesso a fare la mara scoperta in località Pegliera Mentre recuperava la mandria Ha notato un cavallo a terra Nell'avvicinarsi per capire cosa fosse successo Ha notato il foro del proiettile nell'arto anteriore destro All'altezza del cuore Ad essere stata ammazzata una cavalla di otto anni A bordo strada, a pochi centinaia di metri dalla carcassa Sono stati trovati due bossoli forse di carabina I fatti sono stati denunciati ai carabinieri forestali di Teggiano Che hanno avviato subito le indagini Con i militari della stazione di Sassano Per risalire colpevoli gli inquirenti indagano Senza escludere nessuna pista Il gesto potrebbe essere riconducibile a intimidazione O a un incidente di caccia La vicenda è seria Il paese purtroppo non è nuovo a tale genere di episodi Qualche anno fa una decina di bovini Morirono in circostanze anche qui inquietanti Furono trovati diversi nei campi e sulle strade Si disse fossero stati avvelenati Sull'animale ucciso ora colpe d'arma da fuoco E' stata disposta l'autopsia Intanto si cerca il puledro di 5-6 mesi Che seguiva sempre la cavalla E che ancora risulta disperso I carabinieri dello nucleo operativo e radiomobile Della compagnia di Battipaglia Hanno arrestato nella notte del 21 ottobre In flagranza di reato Un sedicenne per detenzione Ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Durante un servizio di controllo del territorio I carabinieri hanno intimato l'alt All'auto sulla quale il minore viaggiava come passeggero Il giovane alla vista dei militari Ha tentato di disfarsi di un involucro in cellofan Contenente hashish per un peso complessivo di 91 grammi La droga è stata sequestrata L'indagato è stato condotto presso il centro Di prima accoglienza di Salerno In attesa dell'udienza di convalida A Battipaglia i carabinieri della locale stazione Hanno eseguito un'ordinanza applicativa Della misura cautelare personale degli arresti domiciliari Emessa dalla GIP della Tribunale di Salerno Su richiesta della procura Nei confronti di un 41enne per atti persecutori E maltrattamenti in famiglia Nei confronti dell'ex compagna Il provvedimento è scaturito dalla querela Sporta dalla donna per le continue minacce Subite dall'indagato Il provvedimento cautelare è successivo È suscettivo di impugnazione E le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice Nelle fasi ulteriori del procedimento Operava all'interno di un garage Di circa 400 metri quadri Senza alcuna autorizzazione E peraltro erano presenti all'interno Anche numerosi rifiuti speciali Anche pericolosi Eseguito il sequestro della Guardia di Finanza Vediamo Aveva allestito un'autocarrozzeria completa Delle attrezzature necessarie Per la realizzazione delle opere Sulle auto che venivano consegnate Presso il garage per la riparazione Due di queste erano presenti All'interno dell'officina L'attività però era priva Delle necessarie autorizzazioni La Guardia di Finanza di Salerno Nel corso del consueto controllo economico Del territorio Ha individuato presso un garage Di circa 400 metri quadri Nel comune di Sant'Egidio di Monte Albino L'attività di riparazione Organizzata in ogni piccolo dettaglio Per poter espletare al meglio La professione All'interno infatti Le fiamme gialle Della compagnia di Nocere Inferiore Hanno individuato Una cabina di verniciatura Ed un ponte sollevatore Da officina Oltre a due vetture danneggiate E su cui erano stati Già avviati coinvolti Inoltre la Guardia di Finanza Della Procura di Milano E che ha visto impegnati Oltre a 400 Finanze di Materiale E ferroso 40 centi Talle le ordinanze Di custodia cautelare Emesse dal giudice Per le indagini preliminari Di Milano Nell'ambito Della massi Operazione E seguita Della Guardia di Finanza Di Milano Nell'ambito Delle attività Finalizzate Al quali Non erano previste Azioni Goni Allo corretto Spacimento I finanzi E hanno dunque Riciclaggio Di denaro Esercizio Obstivo Del credito E frode fiscale E l'indagini Hanno portato Ad individuare Un'affitta Rete di spazio Di droga Tra Italia E Spagna Con circa 96 perquisizioni E seguiti Oltre Che soprattutto Il territorio Italiano In Spagna E l'erogazione Di serra Oltre alle 46 Ordinanze Di custodia Cautelare Su richiesta Della locale Direzione Non autorizzate Sono stati emessi Anche 12 fermi Dalla Guardia di Finanza Dalla Procura Milanese Le richieste di arresto Di cui 33 Piaga dell'economia Sommersa E domiciliari Sono stati eseguiti Oltre a sottrarre Risorse all'erario E tali mettono A compiegamo Brescia Monza Varese Inoltre l'operazione Torino Alessandria Asti Prato Roma Teramo Catania Salerno In questo Ultimo caso La Guardia di Finanza Di Salerno Provede A trarre In arresto L'uomo Di Alfano Piccolo Centro Occidentano Di poco meno Di 1000 Abitanti Ritenuto Personaggio Di spicco Nell'ambito Dell'operazione In due supermercati Della stessa catena Nel Vallo di Diano Si è registrato Un furto E un tentativo Di furto Di bottiglie Di liquori Il primo colpo È avvenuto Nel centro commerciale Di Atena Lucana Da dove i ladri Hanno portato via Alcolici Per diverse centinaia Di euro In un supermercato A Pantano Di Teggiano Invece i ladri Hanno provato A portare via Gli alcolici Ma i commessi Li hanno inseguiti I malviventi Hanno quindi Abbandonato Il bottino All'esterno Del negozio E sono fuggiti Sugli episodi Indagano i carabinieri Due attività Commerciali Di corso Vittorio Emanuele A Salerno Ieri sono state Prese di mira Da un uomo Che è stato Fermato dagli agenti Della sezione volanti Della questura L'uomo è stato Anche filmato Dalle telecamere Di videosorveglianza Vediamo i dettagli Ha tentato Di sollevare Una saracinesca Per poi infrangere Con un paletto Di ferro La vetrina Della rivendita C&C Del centro Apple di Salerno Poi ha colpito Il negozio accanto Di articoli sportivi Avulab Sono le due attività Commerciali Di corso Vittorio Emanuele A Salerno Prese di mira Questa mattina Intorno alle 5.30 Da un uomo Che è stato Non solo filmato Dalle telecamere Di videosorveglianza Ma anche fermato Dagli agenti Della sezione volanti Della questura Di Salerno Un doppio tentativo Di furto Per l'uomo Che ha scatenato La rabbia Dei commercianti Della zona Che già da giorni Si erano dichiarati Preoccupati Per la presenza Del cantiere Per i lavori Di riqualificazione Del corso Un brutto episodio Per i negozianti Che stabbattina Sebbene hanno avuto Modo di verificare Che non era stato Portato via nulla Hanno dovuto fare I conti con i danni Serviranno Almeno 2.500 euro Per ripristinare La porta d'ingresso Del negozio Della Apple Come ha dichiarato I nostri microfoni Gianluca Brancaccio Amareggiato Per quanto accaduto In pieno giorno Quando i bar Del corso Hanno anche Già avviato L'attività Si Si suppone Che sia stato così Anche se Le dinamiche Rivedendo E parlando Con la polizia Sembrerebbe Che sia stato Non so Quasi diciamo Uno sfregio Tra virgolette Insomma In sostanza Questa persona È stato beccata Alle 5.30 di mattina In quel momento Mi sembra un orario Un po' fuori dal comune Per chi è interessato A effettuare Un furto o altro E infatti Ci ha lasciato Un po' Senza parole Questa situazione Perché insomma Ha causato Più una scorciatura Che altro Perché poi in sostanza Da solo Con un palo Credo che abbia Con il quale Abbia tentato Di aprire la sala cinesca Alle 5.30 di mattina Insomma È stata un po' Non so nemmeno Se chiamare Tentativo di furto o meno Ha portato niente Sendo poi da solo Una sala cinesca del genere Pesa tantissimo Quindi è praticamente impossibile Oltretutto poi Si sarà affacciato Cioè subito dopo Al negozio a fianco Lasciando anche del sangue Perché poi il tentativo Era di entrare Da una finestrella Non lo so Cioè se sarebbe potuto Riuscirci In ogni caso A entrare Veramente il motivo Non lo conosciamo L'unica cosa certa È che ci ha causato Ovviamente Dei disagi Dei danni Ora dei costi E quant'altro È chiaro Noi dovremmo rimanere Con questa porta aperta Quindi cercare di capire Come risolvere Almeno in questi giorni Probabilmente Forte del fatto Che ci fossero questi lavori Qui di questo cantiere Oltre a Come dire Insomma Creare un po' di ostacoli In particolar modo Per la clientela Perché comunque In questo periodo E poi per il periodo Che verrà Soprattutto il mese di dicembre A noi chiude un poco La visibilità E lui Ne avrà anche approfittato Perché poi Oltretutto Parlando con la polizia Ci hanno riferito Che addirittura Ha lasciato il giubbino Vicino al cantiere Per poi iniziare Insomma A lavorare Oggigiorno Siamo molto comuni A queste situazioni In questa città A che ora avete aperto Con il bar? Noi alle 6 meno un quarto Già era accaduto Tutto ciò? Che cosa hai notato Quando sei arrivato? Vabbè La sicurezza Stava facendo Il loro lavoro Mi spaventa un po' Questo episodio? Eh sì Perché siamo insicuri Di quello che Che viviamo Perché comunque Come me Apriamo presto Non è che è tanto bello Secondo te Un tentativo di furto O qualche balurdo Che si è divertito A rompere vetrine? Beh Qualsiasi cosa sia stata Non è giusto Che noi lavoriamo Dobbiamo essere più tutelati A Pisciotte I carabinieri Della locale stazione Hanno eseguito Un'ordinanza applicativa Della misura cautelare Personale Dell'allontanamento Della casa familiare Emessa su richiesta Della procura Dalla GIP Della tribunale Di Vallo della Lucania Nei confronti Di un 58enne Per atti persecutori Nei confronti Dell'ex moglie Il provvedimento È scaturito A seguito Della querela Asporta Dalla donna In merito Alle condotte Intimidatorie Assunte dall'indagato Attraverso minacce Ingiurie Ai danni Della stessa donna L'assistenza sanitaria In campagna Continua a far Registrare Numerosi deficit Sia per ciò Che riguarda Il personale E sia per le liste D'attesa Sempre troppo lunghe Una situazione complicata Su cui interviene Il commissario provinciale Di Fratelli d'Italia Alberico Gambino Che evidenzia L'importanza Di spendere meglio Le risorse Messe a disposizione Dal governo Vediamo La sanità Resta un tema Ostico In campagna Alla luce Anche dei recenti Accadimenti Che molto spesso Vedono la ridotta Disponibilità Di unità lavorative Nei reparti Rendere complicate Le attività Di assistenza I pazienti Da tempo Da tempo Si fa riferimento Alle liste D'attesa Lunghissime Per consentire Agli utenti Di poter effettuare Esami necessari Per la prevenzione E la cura Di patologie Anche gravi Una situazione Che soprattutto In un periodo Di tempo Complicato Dal punto di vista Economico Per tante famiglie Rischia di compromettere Lo stato di salute Dato che Non sempre È possibile Ricorrere A visite specialistiche A ciò Si aggiunge Anche la difficoltà Che si registra Nei reparti ospedalieri Dove Il personale Sia medico Che infermieristico Risulta essere Sempre rimaneggiato Ed in particolari Momenti Addirittura Si registrano Delle vere e proprie Emergenze In diversi presidi Ospedalieri Con la difficoltà Anche a tenere aperti I taluni reparti Per l'assenza Del personale Necessario A garantire Le turnazioni Una situazione Che va avanti Da anni Nonostante Gli appelli Lanciati più volte Le richieste Continue Di individuare Una soluzione Non sono mancati Peraltro I casi In cui I medici Pur assegnati Specifici ospedali Hanno preferito Lasciare il posto Per spostarsi In altre regioni D'Italia Sulla difficoltà Che si sta registrando In Campania In questi anni Interviene Il commissario Provinciale Di Fratelli D'Italia Alberico Gambino Che punta il dito Contro l'amministrazione Regionale De Luca Sottolineando Come le risorse Messe a disposizione Delle regioni Per efficientare Il servizio sanitario Dovrebbero essere Spese in maniera Più congrua La sanità È un problema In tutta la nostra regione Adonore del vero In questi anni Di amministrazione De Luca Si sono fatti Tantissimi passi indietro Le liste di astese Sono infinite Sono concorsi Che non vengono banditi Ci sono situazioni Veramente emergenziali Un pochettino In tutta L'organizzazione Della sanità Quindi dai distretti Agli ospedali Bisogna Era stato detto Che si rivoltava Questa regione Come un calzino Purtroppo Ai noi Siamo ultimi Tra gli ultimi Quindi bisogna Invertire la rotta Come governo Si sta lavorando Tantissimo A livello nazionale Ci auguriamo Che anche qui In questa regione Possano percepire Quelle che sono Gli input E ovviamente Anche quelle che sono Le risorse Che attraverso il governo Vengono date E dovrebbero essere Spese in modo Assolutamente migliore Ora ci fermiamo Per un po' di pubblicità A tra poco Bentornati in studio Proseguiamo con il nostro Telegiornale Continuano i controlli Straordinari Sul lungomare di Salerno Nell'ambito di servizi Specifici Disposti dal questore In risposta Alle richieste Di un maggiore controllo In un'area Di continuo passeggio Dove di frequente Però avvengono Attività di spaccio Di droga Ieri L'ultimo arresto In ordine di tempo Vediamo Continuano i controlli Straordinari Sul lungomare di Salerno Predisposti dal questore Giancarlo Conticchio Per rispondere Alle esigenze Ribadite Da cittadini E negozianti Di avere maggiore controllo In un'area Di continuo passeggio Anche per famiglie Anziani Con bambini E dove di frequente Però sotto gli occhi Di tutti Avvengono Anche di giorno Attività di spaccio Di droga Ne conferma Proprio l'ultimo intervento Della polizia di stato Che nel pomeriggio Di ieri Proprio nell'ambito Di servizi Volti al contrasto Della vendita Di droga Nella zona Del lungomare Attratto in arresto In flagranza Di reato A un cittadino L'accusa Nei suoi confronti È reato Di detenzione Ai fini di spaccio Di sostanze Stupefacenti Lo stesso È stato individuato Dalla polizia Mentre era in possesso Di 12 involucri Di hashish Per un peso complessivo Emersa da parte Da parte della comunità Altre 12 persone Sono state controllate Sono di nazionalità straniera La loro posizione È ora il baglio Dell'ufficio Immigrazione Per capire In che modo Stiano restando Sul territorio nazionale E se appunto Sono regolari Successo per il debutto Alla Camera dei Deputati Del docufilm Quel che resta Dedicato ad Angelo Vassallo Per il fratello Dario La premier In questo luogo sacro Della politica nazionale Significa Aver portato Angelo Al posto Che gli spetta I dettagli Ha debuttato Nell'aula Dei gruppi parlamentari Della Camera dei Deputati Il documentario Quel che resta Dedicato alla memoria Di Angelo Vassallo Lo annuncia Alla fondazione Angelo Vassallo Ricordando che Quel che resta Non è solamente Un documentario Ma una profonda Testimonianza Della vita straordinaria Di Angelo Vassallo Un individuo Che si è eretto Come un autentico Baluardo Nel suo territorio Rappresentando Un esempio vivente Di politica onesta E di amministrazione Virtuosa L'avvocato Della fondazione Angelo Vassallo Antonio Ingroia Già magistrato Ha spiegato Che dopo ben 13 anni Dall'atroce omicidio Di Angelo Vassallo Finalmente Si apre Uno spiraglio Di luce La procura Di Salerno Ha ricordato Ha iscritto Nel registro Degli indagati Per questo efferato Delitto Individui appartenenti Alle forze Dell'ordine Imprenditori E persino Soggetti Sospetti Di avere legami Con la criminalità Organizzata La famiglia Vassallo Ha concluso Ingroia Ha sempre vissuto Con la paura Che ci fossero Depistaggi Ma l'impressione Di oggi Che esprimo Con una certa dose Di ottimismo E che la verità Sia più vicina Per Stefania Ascani Membro della Commissione Giustizia e Antimafia E deputata Del Movimento 5 Stelle È stato un privilegio Proiettare Alla Camera Dei Deputati Il docufilm Realizzato Da Luca Pagliari Su Angelo Vassallo Da tempo Ci stiamo impegnando Ha affermato Con i fratelli Dario e Massimo Vassallo Affinché la verità Venga stabilita E oggi A 13 anni Di distanza Dall'atroce omicidio Non abbiamo ancora Una sentenza definitiva Le istituzioni Dovrebbero essere Orgogliose Di aver avuto Un uomo Della sua statura Tra i loro ranghi Vassallo Ha proseguito È stato un esempio Di lotta Per l'ambiente Contro il malaffare Un uomo Che ha pagato Con la sua vita Il suo impegno Per la comunità La premier In questo luogo sacro Della politica nazionale Afferma Dario Vassallo Presidente della fondazione Angelo Vassallo E sindaco pescatore Significa aver portato Angelo Al posto Che gli spetta Ora il film Sarà presentato Agli occhi Dei ragazzi Di 12 13 14 E 15 anni Che potrebbero Non conoscere La vicenda E la storia Di Angelo Questo è anche Un tentativo Di promuovere La cultura Perché come ci ha insegnato Angelo La politica È soprattutto cultura Grande soddisfazione Per il cantautore Salernitano Simone Che nello scorso Fine settimana Ha vinto il primo premio Della giuria popolare Al concorso Pro Scenium Festival Della canzone D'autore Città di Assisi Vediamo Ottimo risultato Per il giovane Cantautore Salernitano Simone Castelluccio Che alla quinta edizione Di Pro Scenium Festival Della canzone D'autore Città di Assisi Si è giudicato Il premio Giuria popolare L'ultimo Da assegnare Per il concorso Canoro nazionale Riservato ai giovani talenti Della musica cantautorale Che si è tenuto Sabato scorso Al teatro Lyric Di Assisi Ventenne Di Salerno Simone Ha partecipato Alla manifestazione Con il brano Mistica Il premio Gli è stato conferito Domenica scorsa In occasione Del dopo festival Che ha visto Alla conduzione Antonio Mezzancella E Loredana Torresi Secondo posto Per Marco Villan 26enne di Benevento Con Senza Fare Rumore Terza classificata La 29enne Umbra Letizia Bonucci Che ha cantato Ordine Imperfetto I premi Della giuria popolare Sono stati assegnati Dal pubblico Della Lyric Che ha votato Sabato sera Subito dopo aver Ascoltato le canzoni Grande soddisfazione È stata espressa Da Simone Che postando Il video Della serata Ha scritto Questa è la mia Esibizione di mistica Con la fantastica Orchestra Che ci ha accompagnato Magistralmente In tutto il nostro Percorso Sono stati giorni Di forte emozione Di rapporti umani E grandi soddisfazioni Ho ricevuto Il primo premio Della giuria popolare Grazie al televoto Del pubblico Che ha seguito La diretta da casa E da quello presente In sala Poi Simone Ha ringraziato Tutti coloro Che lo hanno seguito E votato Ma anche le persone Che lo hanno supportato Dall'inizio Le bellissime persone Ha affermato Che ho conosciuto E soprattutto La produzione Del Procenium Per la perfetta Organizzazione Di questa enorme macchina Che ogni anno Continua a regalare Emozioni forti E mette al centro Di tutto I cantanti emergenti Regalando Una grande opportunità E con questo è tutto Per l'appuntamento Di oggi Grazie per averci seguito Continuate a restare con noi E a tutti Buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti